Le strade più opportune che permettano alla Chiesa di impegnarsi in modo adeguato con le famiglie e per le famiglie. All'Angelus in piazza San Pietro, subito dopo la messa di apertura del Sinodo, il Papa ha sintetizzato così l'obiettivo dell'assise che si appresta a cominciare i lavori per un secondo discernimento dopo la riunione di un anno fa sulla vocazione e missione della famiglia. L'attenzione di Francesco si è puntata in modo particolare sulla figura dei genitori e quella degli educatori. Assieme all'intera società, ha detto, si facciano strumenti di quell'accoglienza e di quell'amore con cui Gesù abbraccia i più piccoli, guardando nei loro cuori con la tenerezza e la sollecitudine di un padre e al tempo stesso di una madre. Al termine dell'Angelus, il Papa ha ricordato la festa del patrono d'Italia, San Francesco, e ha invitato alla solidarietà con le popolazioni del Guatemala, dove una frana ha fatto 70 morti, e con quelle della Costa Azzurra, in Francia, colpite da una disastrosa tempesta. Penso, adesso penso, a tanti bambini affamati, abbandonati, sfruttati, costretti alla guerra, rifiutati. È doloroso vedere le immagini di bambini infelici con lo sguardo smarrito, che scappano da povertà e conflitti, bussano alle nostre porte e ai nostri cuori, implorando aiuto. Il Signore ci aiuti a non essere società fortezza, ma società famiglia, capaci di accogliere con regole adeguate, ma accogliere, accogliere sempre, con amore. Grazie. 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 Grazie.